Nessun addio ma un arrivederci tra i ragazzi della piccola opera Caritas e quelli arrivati in Italia dalla Cina e dalla Finlandia per il Meeting Art that Cares che si è svolto al MAS Museo d'Arte dello Splendore di Giulianova la scorsa settimana. L'incontro, il secondo a livello internazionale dopo l'esordio in Cina nel 2013, è stato organizzato dalla Fondazione Piccola Opera Caritas ed ha analizzato il tema dell'arte che unisce, crea, cura e riabilita. Nella mostra Talenti senza frontiere, i ragazzi d'Italia, Cina e Finlandia hanno espresso i loro talenti testimoniando quanto l'arte possa essere strumento prezioso per raccontare, dialogare e condividere. Mostra che resterà aperta fino a sabato prossimo al pari delle altre due allestite al MAS in occasione di questo meeting, tavolo perimetro del maestro Marco Brandizzi e arte, espressione e coscienza a cura dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Anche in una società degli scarti, una società che taglia e margina o assiste per pietà, è possibile proporre un nuovo umanesimo. Così, il vescovo della diocesi di Teramoatri, Monsignor Michele Seccia, aprendo il meeting che nella giornata conclusiva, quella del 20 di maggio, ha analizzato il tema della riabilitazione nel percorso del reinserimento sociale.